Buongiorno, sono un po' assonnata perché, come pensavo, ho fatto fatica ad addormentarmi cioè in realtà tipo mi sono addormentata subito, poi mi sono svegliata così all'improvviso, ma dopo poco e da lì ho fatto fatichissima ad addormentarmi, poi avevo tipo una zanzara che continuava a ronzarmi e quindi vabbè, poi mi sono svegliata comunque anche prima, un po' dai rumori, del piano di sopra, eccetera quindi devo un attimino ancora abituarmi e per cui adesso inizio a preparare tutte le cose da portarmi dietro, quindi la schiscia prima che me la dimentico perché è già capitato e faccio collezione e mi preparo Giustamente stavo notando che mi sono truccata un pochettino, mi sono sporcata che sono da toccarmi gli occhi, non sono più abituata Per colazione torno alle mie vecchie abitudini del latte di soia senza zuccheri perché ne avevo ancora qua un cartone e ovviamente sto preparando il porridge Porridge è pronto Mi è venuto meno liquido del solito Molto buono Sono praticamente pronta per partire Ho recuperato tutto, la schiscia, la bottiglia d'acqua le varie cose Mi metto comunque il giubbottino in pelle perché non ho ancora capito che temperatura c'è Zaino pronto e si parte La mia bici è ancora viva Purtroppo ieri non ce la posso nella rastrelliera quindi ho dovuto metterla davanti alla porta d'ingresso Allora, bici legata Io sono arrivata in uni ho già visto chi i miei compagni ora vado a raggiungerli e ci vediamo dopo in aula Lezione finita di statistica cambio aula Oggi seconda lezione in galleria La mia schiscia Allora, abbiamo fatto le prime due ore di lezione cioè due ore le prime due lezioni e io sono stremata ho un sonno il problema è che dobbiamo continuare a cambiare edifici e abbiamo pochissimo tempo per andare in mani o mangiare e quant'altro quindi ora niente, sto correndo a riempire la borraccia e poi tornerò in aula e ho 5 minuti per mangiare al volo la mia schiscia Adesso ho un corso con la prof che è stata una delle mie preferite l'anno scorso quindi ho grandi aspettative però è un'esame scelta quindi devo valutare se può inserirlo o meno Io sono devastata ho mal di testa ma perché siamo arrivate alla terza lezione dove non ci stavamo perché eravamo due gruppi quindi matricole pari e dispari che di solito siamo appunto separati però nei corsi di gruppo a scelta stiamo insieme Peccato che Laura era minuscola e la metà delle persone era stata per terra quindi non potevamo fare lezione e quindi ci hanno dovuto spostare in un altro edificio ancora quindi praticamente oggi non so quanti mila passi ho già fatto e si moriva letteralmente di caldo infatti anche la prof non ce la faceva più quindi ho mal di testissima però adesso affrontiamo l'ultima lezione per quest'oggi giusto dieci minuti di pausa per riempire di nuovo la gorraccia e andare in bagno poi si ricomincia poi con calma vi racconto tutto Mi vedo merosi a questa prima lezione ok siamo usciti finalmente dalle otto e mezza di stamattina un po' devastati quindi adesso hanno proposto sprizzino e non posso dire di no per cui andiamo a farci uno sprizzetto primo brindisi di spritz primo di tanti allora piccolo stop dal cinese per prendere un quaderno per statistica che non ce l'avevo io ho scelto questo qua dunque giornata terminata ci siamo appunto fermati a fare un aperitivo tutti insieme poi qualcuno se n'è andato prima io mi sono fermata con la mia compagna di corso che volevo anche prendere il quaderno per domani e adesso recupero la bici che ho già visto che c'è fortunatamente e torno a casa tra l'altro il mio compagno di corso mi ha regalato cioè mi ha portato un regalino per il mio compleanno che ancora non mi aveva dato e non vedo l'ora di aprirlo eccomi finalmente a casa sono veramente morta e adesso non vedo l'ora di farmi una bella doccia rinfrescante perché ho proprio bisogno di scrollarmi da addosso questa giornata che è stata impegnativa poi veramente ho talmente tanto caldo che ho accumulato che non ne posso più e sono purtroppo ancora un po' malinconica mi sento un po' strana sicuramente devo ancora un attimino rientrare nella mia routine poi quando sicuramente avrò le giornate più impegnate insomma sarà diverso però per il momento sono ancora un po' così quindi mi ha fatto piacere che i miei compagni mi hanno proposto comunque di fare questo mini aperitivo insomma di sbagarci un attimo ne avevo bisogno anche di stare un po' con loro chiacchierare sentirmi un pochettino più vicina alle persone io sono anche molto contenta del pensierino che mi ha fatto il mio amico perché a prescindere da quello che ci sarà dentro sono già emozionata quindi adesso lo apriamo insieme tra l'altro mi spiace anche aprirlo perché è un pacchettino bellissimo e praticamente ho il bigliettino che adesso leggerò spero di non piangere però mi ha detto di no che non piangerò e questa è la scatoletta super carina che ovviamente mi ha detto che non ha impacchettato lui ma Maria è la sua ragazza e adesso lo apriamo insieme comunque anche il bigliettino troppo carino ora ve lo leggo con l'augurio che tu possa avere una luminosa carriera nell'inseguire le tue passioni Sebastiano e Marie non vedo l'ora di vedere che cosa c'è dentro vediamo insieme cioè è questa cosa qua con dietro tipo on off e ho letto che è tipo video light instruction ma che cos'è? allora ovviamente conoscendo quello che sto facendo con youtube, video eccetera mi hanno preso questa lampada che adesso mi sono già sparaflesciata ovviamente dicono di non mettere a contatto cioè di non guardare la luce io me la sono sparaflesciata addosso e quindi niente sono molto contenta perché appunto il messaggio legato insomma alle passioni era proprio azzeccato infatti immaginavo che c'entrasse qualcosa e quindi insomma con l'augurio di continuare a alimentare questa mia passione insomma quello che sto facendo e quello che farò per cui dai sono molto contenta gli altri fanno sempre dei regali così azzeccati sono bravissimi io non sono per niente brava tra l'altro tra poco sarà il suo compleanno quindi devo già mettermi in moto e pensare a qualcosina nel frattempo ora che aspetto che la mia conculina ha deciso di fare una torta salata in forno e io dovrò ancora decidere cosa farmi per stasera a cena e domani a pranzo però domani in realtà sono a casa al mattino quindi andrò prima in palestra e poi comunque tutta la mattinata per decidere che cosa fare quindi in realtà adesso mi prendo questi minuti un po' per rilassarmi volevo raccontarvi un po' come è andata oggi dunque a parte le disavventure perché è stato veramente pesante passare da un edificio all'altro continuamente avendo poco tempo a disposizione e per comunque le pause per mangiare insomma riempire la borraccia e quant'altro come vi ho detto però veniamo ai corsi che è la cosa che mi interessa di più raccontarvi allora abbiamo iniziato con statistica super contenti perché il prof è molto bravo sembra molto puntuale molto attento abbiamo un po' la sensazione che andrà molto rapido però eccoci sembra molto bravo molto competente e la materia ovviamente io l'ho già fatta ad economia poi vabbè sicuramente questa è applicata all'ambito di psicologia ci ha già detto qualcosa vedremo per il momento non mi bilancio dicono che è l'esame più difficile della triennale però non lo so non la vedo così male ecco non vorrei tirarmela però dopodiché abbiamo avuto psicologia dell'educazione e sono sorpresa piacevolmente perché non mi aspettavo un corso del genere nel senso non mi ero fatta in realtà nessuna aspettativa e abbiamo due docenti che sosterranno il corso quindi ognuna poi è specializzata si occuperà di alcuni argomenti rispetto agli altri insomma rispetto all'altra docente e in particolare avremo un focus sui disturbi specifici di apprendimento in generale sull'apprendimento con appunto ogni insegnante che porterà il suo contributo in base anche a quello che trattano quotidianamente nella loro professione quindi in particolare appunto ci focalizzeremo su determinati ambiti e avremo anche poi la possibilità di fare un progetto con una dottoranda che adesso è all'estero non mi ricordo in quale università ma ci darà del materiale che utilizzeremo come approfondimento su cui possiamo appunto lavorare e poi esporlo alla classe quindi non lo so adesso vedo un po' come va questa settimana poi vi racconterò sicuramente meglio per esempio questa docente che abbiamo avuto oggi si occupa anche di persone che hanno disturbi a livello proprio uditivo piuttosto che dislessia quindi insomma vedremo un attimino di che cosa ci occuperemo per il momento sicuramente la docente sembra preparata ma vedremo poi quando ci addentreremo nella materia come sarà tra l'altro abbiamo la possibilità di fare il preappello al 21 dicembre se non ricordo male quindi perfetto perché poi vorrà dire che il 22 non avremo più lezione perché terminiamo col preappello il preappello è appunto un esame che ci permettono di fare per i frequentanti prima dell'appello ufficiale quindi vorrebbe dire togliersi una buona parte di esami prima della sessione a gennaio dopo di che abbiamo avuto i due corsi a scelta di cui io poi tecnicamente dovrei sceglierne uno ma sarà una scelta molto difficile perché ovviamente ho avuto la mia prof una delle mie preferite dell'anno scorso che ha tenuto questo corso in psicodinamica dei gruppi e mi ha lasciato anche qua sorpresa perché non lo so io sono stata sempre un po' come in realtà lei ha affermato anche molti pazienti quando in ambito di terapia gli viene proposto di fare terapia di gruppo io sono anche un po' scettica a riguardo però già dalle premesse del corso in realtà lei sembra che possa darci dei buoni spunti e possiamo proprio addentrarci capire un po' come funziona meglio la dinamica di gruppo quindi in realtà faremo prima una descrizione del gruppo oggi abbiamo già detto qualcosa perché ovviamente di gruppo non si parla solo in terapia ma il gruppo famiglia il gruppo scuola il gruppo dei pari cioè ci sono vari gruppi nella società e quindi tratteremo un po' in generale i gruppi penso poi con un focus lei ci porterà sicuramente dei casi clinici e quindi secondo me quella poi sarà la parte un po' per noi più interessante quindi corso che prevede anch'esso un preappello il 19 dicembre quindi perfetto due giorni prima dell'altro cioè un giorno poi alla fine di mezzo per poter ripassare e quindi anche questa ottima cosa infine abbiamo avuto l'ultima lezione un po' particolare il prof è un fenomeno è veramente simpatico mi è piaciuto molto è sicuramente lui ha voluto sottolineare il fatto che il fatto di frequentare è proprio deve essere proprio una scelta perché lui dice se volete studiare ai fini dell'esame vi fate il vostro manuale non venite a lezione e finisce lì se invece avete la voglia di frequentare di mettervi in gioco eccetera sappiate che noi qui a lezione proprio ci addentreremo di più nei temi della psicologia di comunità del benessere e infatti oggi abbiamo fatto questo primo esercizio che vi ho ripreso dove si vede appunto che ci ha dato questi fogliettini dove ci poneva una domanda e noi dovevamo iniziare a ragionare che cosa cioè qualcosa in merito a questa domanda a noi per esempio è capitata la domanda su i senza tetto quindi perché oggi si registra un grande numero di senza tetto e insomma ci ha portato un po' a ragionare su queste tematiche chi invece aveva la domanda su per esempio perché c'è un alto drop un alto tasso di insomma di studenti che lasciano la scuola che lasciano gli studi e quindi insomma per addentrarci un po' ho iniziato a trasmetterci questi contenuti devo dire che sicuramente potrebbe essere interessante non abbiamo cioè almeno io personalmente non ho ben capito poi nella pratica i contenuti che andremo effettivamente a trattare quindi ecco siccome anche esso un esame è scelta dobbiamo un attimino cioè vorrei un attimino valutare per il momento se dovesse scegliere tra i due sono più orientata ovviamente sul primo con la mia prof che è una delle mie preferite eccetera però lui non lo so mi ha lasciato piacevolmente sorpresa sicuramente io avrei voluto fare anzi ho fatto questo ragionamento di frequentare comunque entrambi e poi decidere di dare un esame piuttosto che l'altro e l'altro tenerlo solo come proprio infatti la piacevolezza insomma di aver seguito quel corso interessante però devo dire che è un po' impegnativo in realtà sono solo concentrate lunedì e martedì due giorni a settimana un'ora e mezza non è che sia tantissimo però tipo la giornata di oggi è veramente pesante cioè fare tutte quelle ore è veramente pesante quindi ecco valuterei più che altro questa cosa qua non vorrei tra virgolette sovraccaricarmi per togliere poi tempo allo studio insomma di altre materie ad altre attività quindi deve valerne proprio la pena cioè adesso penso che appunto per un paio di settimane frequenterò tutto e poi se vedo che ne vale la pena che mi piace allora ci faccio un pensierino io ho cercato anche di indirizzare su questa strada anche una mia compagna così nel caso appunto stiamo in due e vediamo cioè insieme abbiamo preso insomma cioè vedremo se prendere o meno questa decisione quindi spero di più o meno avervi trasmesso un po' come è andata questa giornata domani sarà un'altra giornata un po' impegnativa ma più che altro perché finiamo alle 6 di sera quindi sarà tosta però ecco per il momento è tutto io adesso vado a farmi una bella doccia come vi dicevo poi preparerò qualcosa da mangiare e poi spero di crollare stasera perché ho proprio bisogno di dormire visto che stanotte non ho dormito tanto quindi insomma cercherò di andare a letto un po' presto quindi ecco siccome anch'esso un esame è scelta dobbiamo un attimino cioè vorrei un attimino valutare per il momento se dovesse scegliere tra i due sono più orientata ovviamente sul primo con la mia prof che è una delle mie preferite eccetera però lui non lo so mi ha lasciato piacevolmente sorpresa sicuramente io avrei voluto fare se avevo fatto questo ragionamento di frequentare comunque entrambi e poi decidere di dare un esame piuttosto che l'altro e l'altro tenerlo solo come proprio il fatto la piacevolezza insomma di aver seguito quel corso interessante però devo dire che è un po' impegnativo in realtà sono solo concentrate lunedì e martedì due giorni a settimana un'ora e mezza non è che sia tantissimo però tipo la giornata di oggi è veramente pesante cioè fare tutte quelle ore è veramente pesante quindi ecco valuterei più che altro questa cosa qua non vorrei tra virgolette sovraccaricarmi per togliere poi tempo allo studio insomma di altre materie ad altre attività quindi deve valerne proprio la pena cioè adesso penso che appunto per un paio di settimane frequenterò tutto e poi se vedo che ne vale la pena che mi piace allora ci faccio un pensierino io ho cercato anche di indirizzare su questa strada anche una mia compagna così nel caso appunto stiamo in due e vediamo cioè insieme abbiamo preso insomma cioè vedremo se prendere o meno questa decisione quindi spero di più o meno avervi trasmesso un po' come è andata questa giornata domani sarà un'altra giornata un po' impegnativa ma più che altro perché finiamo alle 6 di sera quindi sarà tosta però ecco per il momento è tutto io adesso vado a farmi una bella doccia come vi dicevo poi preparerò qualcosa da mangiare e poi spero di crollare stasera perché ho proprio bisogno di dormire visto che stanotte non ho dormito tanto quindi insomma cercherò di andare a letto un po' presto dunque mi sono preparata la cena e devo dire che sono molto contenta perché appunto col fatto che non abbiamo il fornello e il tecnico ha detto che uscirà giovedì speriamo comunque dovrò passare i prossimi giorni a non mangiare praticamente nulla mi sono fatta le uova sode in frigitrice ad aria e sono note buonissime e poi mi sono fatta parte delle carote nel microonde quindi tipo cottura a vapore e un po' di pane non avevo neanche tanta fame cioè non so perché secondo me perché sono tutta scombinata da questa giornata e poi ho bevuto una tizanina con la mia coinquilina che abbiamo chiacchierato un po' perché avevo un po' bisogno di consolarmi e di essere consolata insomma e un po' di trovare un po' di conforto insomma anche con lei che addirittura è il suo ragazzo giù in Calabria quindi poverina non so neanche quando riusciranno a vedersi per cui insomma dobbiamo tra di noi insomma cercare di aiutarci e sopportarci e supportarci e quindi niente solo che poi mi è siccome da oggi che ho questo mal di testa fortissimo ho pensato che non sarei riuscita ad andare a letto riposarmi bene e quindi ho dovuto prendere uno speed dollo insomma una pastiglia spero che mi mi aiuti un po' e adesso mi metto in pigiama sono veramente cotta non ho neanche avuto modo e tempo oggi di guardare quello che ho fatto a lezione eccetera ma oggi mi sa che proprio non tocco niente perché sono proprio cotta per cui adesso cercherò un attimo di rilassarmi prima anzi preparo il borsone per la palestra perché domani mattina si ricomincia a tra l'altro notiziona io ero un po' disperata nel senso che dovevo rinnovare l'abbonamento quindi altri soldi tutto quanto oggi chiamo la palestra chiedendo appunto conferma sul mio abbonamento quando sarebbe scaduto e mi hanno detto a fine dicembre quindi ho questi altri tre mesi che sono qua a Padova in cui non devo rinnovare l'abbonamento perfetto e quindi sono molto contenta una gioia e quindi niente domani riparto con gli allenamenti mi dovrò svegliare presto nonostante poi abbia lezioni tardi dopo pranzo però vado comunque alle sette perché voglio evitarmi il traffico il casino eccetera quindi sveglia presto a sette meno dieci alle sette fuori di casa così almeno torno all'orario decente poi con calma mi farò la doccia colazione e magari appunto domani mattina riesco a guardare qualcosa delle lezioni per cui ora appunto mi metto dietro a preparare tutto e poi mi rilasso insomma dormo un po' spero io spero che vi ha fatto piacere stare con me quindi nel caso vi invito a lasciarmi un like per questo primo giorno di ritorno all'università e e quindi niente io vi aspetto come sempre a domani se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale anche al canale delle parole e se vi va seguitemi sui social e noi ci vediamo domani ciao